Abbiamo concluso il convegno delle Chiesi d'Italia, ho detto abbiamo concluso perché è tutta la Chiesa italiana che si è ritrovata qui a Palermo, anche se moltissimi di noi non hanno dato nessun contributo e non hanno vissuto nelle profondità del cuore l'avvento. Questo perché abbiamo bisogno che la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità siano bagnate, impregnate dalla grazia di Dio, di una grazia di purificazione che ci faccia vivere la vita nuova in Cristo, la vera vita cristiana. Una vita cristiana, quella che noi viviamo, che non è tanto dissimile della vita degli altri popoli, eppure noi siamo nati in Cristo, abbiamo ricevuto una nuova esistenza in Cristo, siamo creature nuove, siamo il fermento della vita nuova sulla terra, e questo lo abbiamo dimenticato. Ci siamo adeguati alla vita del mondo, alla vita degli abitanti di questo mondo. proprio nell'Apocalisse, tra gli abitanti di questo mondo, tra gli abitanti della terra non sono annoverati i cristiani, i cristiani nell'Apocalisse non sono gli abitanti della terra, appartengono al cielo, sono stirpe divina, perché hanno una nuova esistenza in Cristo Gesù. Eppure noi ci siamo mimetizzati tanto con il mondo, da considerarci abitanti di questo mondo, si intende il mondo pagano, il mondo in cui viviamo, permeato di incredulità, attaccato dalla terra, diviso, permeato delle tre grandi concupiscenze. Abbiamo bisogno di una profonda purificazione, dobbiamo comprenderlo questo, tutta la nostra vita cristiana deve essere bagnata nella grazia di Dio, deve essere impregnata di cielo, altrimenti noi continueremo a celebrare tutti i convegni di questo mondo e la nostra vita non si sposterà neanche ad una virgola, né nella professione della fede, né nella speranza che dovrebbe alimentare la nostra vita quotidiana in visita del cielo, né nella nostra carità che dovrebbe unirci gli uni con gli altri nella professione dell'unica fede e dell'unica speranza e farci sentire tutti i figli dell'unico padre e fratelli tra di noi. Dico che abbiamo bisogno di una profonda purificazione della nostra fede, della nostra speranza e della nostra carità, una profonda purificazione della mente, del cuore, della vita, perché risplende il volto di Cristo. In ognuno di noi che siamo membra del corpo di Cristo dovrebbe risplendere il volto del Signore, che non si vede, che non si vede. Ecco perché dobbiamo lavarci, lavarci, lavarci continuamente, nella forza dello Spirito, soltanto lo Spirito può lavare la nostra vita e far risplendere il volto del Signore. È quello che noi domandiamo questa mattina al Signore e dobbiamo domandarlo ogni giorno. Spirito di Dio scendi su di noi questa mattina e incomincia a lavarci, a lavare la nostra vita, perché risplendi il volto del Signore. Spirito di Dio, vieni, lava la mente, lavi il cuore, lava tutta la nostra vita, fa risplendere quel che ancora rimane di cristiano in noi. Spirito di Dio, scendi su, Spirito di Dio. Spirito di Dio. Spirito di Dio, scendi su di Dio. Spirito 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 di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiede la pioggia, la pioggia implorata, scenda su di noi. Grazie a tutti. Chiede la pioggia, la pioggia implorata, scenda su di noi. Abbiamo invocato la pioggia del cielo e l'acqua dello spirito. Quando i cieli si aprono, cioè il cuore di Cristo, i cieli sono il cuore di Cristo. L'acqua fiotta, esce l'acqua del cuore di Cristo. È quest'acqua che nel simbolo noi veridiciamo e con quest'acqua è che noi saremo asperse. Ma interiormente è lo spirito che scenderà dentro di noi per far maturare dentro di noi propositi di fede, di speranza e di amore, cioè per rinnovare la vita cristiana, per far risplendere il volto di Cristo in ciascuno dei credenti. O Dio eterno e onnipotente, ti hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita nuova. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amene. Aspergimi, Signore, con il sopo e sarò purificato. Lavami, Signore, e sarò bianco dalla neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, dal cuore del Signore. A quanto giugnerà quest'acqua porterà salvezza e tutti canteremo Alleluia. Alleluia. Aspergimi, Signore, e sarò bianco dalla neve. Aspergimi, Signore, e sarò bianco dalla neve. Aspergimi, Signore, e sarò bianco dalla neve. O Spirito è in vita, e in vicino il cuore insieme a me, o Spirito è in vita. E sgorgata dal tuo fianco, Cristo Signore, ponte di salvezza che ci lava dal peccato, e in tutto il mondo rinnova la vita, rinnova la mia vita, oh Signore, quest'acqua, segno della Tua bontà, rinnova la mia vita, oh Signore, rinnova la mia vita, oh Signore, vieni su di noi. Oh Signore, rinnova la mia vita, oh Signore, vieni su di noi, rinnova la mia vita, oh Signore, vieni su di noi, rinnova la mia vita, oh Signore, vieni su di noi, rinnova la mia vita, oh Signore, 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 rinnova O Spirito di vita, tu vieni su di noi e riportami, O Spirito di vita. O Spirito di vita, tu vieni su di noi e riportami, O Spirito di vita. Voi siete stirpeletta, popolo santo, di sacerdoti re. O Spirito di vita, proclamate le meraviglie del Signore, Egli ha vinto la morte, ha vinto le tenebre, ha vinto il male e ci ha chiamati alla santa luce. Alleluia O Dio onnipotente, purificaci dai nostri peccati, fa risplendere il volto del tuo figlio su di noi. E in questa celebrazione rendici degni di partecipare alla menza del tuo regno. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen Preghiamo Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria, Santissima sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano, e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viveregno con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amén 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 ammalato per la tristezza, perché non era venuto secondo i suoi desideri. Rimase così molti giorni perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Chiamò tutti i suoi amici e disse loro, se ne va il sonno dai miei occhi e ho l'animo oppresso dai dispiaceri. Ho pensato, in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero così fortunato e ben voluto sul mio trono. Ora mi ricordo del male che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli aredi d'oro e d'argento che c'erano e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di tali mali mi colpiscono questi mali, ed ecco io muoio nella mia più nera tristezza, in paese straniero. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Il Signore ha manifestato la Sua giustizia. Il Signore ha manifestato la Sua giustizia. Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le Tue meraviglie. Gioisco in Te ed esulto. Canto inni al Tuo nome, O Altissimo. Il Signore ha manifestato la Sua giustizia. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a Te inciampano e periscono. Hai minacciato le nazioni. Hai sterminato l'empio. Il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. Il Signore ha manifestato la Sua giustizia. Profondano i popoli nella fossa che hanno scavata. Nella rete che hanno teso, si impiglia il loro piede. Perché il povero non sarà dimenticato. La speranza degli afflitti non resterà delusa. Il Signore ha manifestato la Sua giustizia. Si semina un corpo corruttibile e risorge incorruttibile. Come abbiamo portato l'immagine dell'uomo terrestre, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. Campion! Grazie a tutti. 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 Perché tutti vivono per lui. Dissero allora alcuni scribbi, maestro hai parlato bene e non osavano più fargli alcuna domanda. Parola del Signore. Grazie a tutti. Questo tratto del Vangelo è di grande attualità. per quella affermazione che Cristo fa della risurrezione dei morti, della vita futura, in cui non tutti i cristiani credono fermamente, pur essendo un articolo fondamentale del credo. c'è un'eresia che eserpeggia nel mondo cristiano la reincarnazione, che è contraria alla resurrezione. Se Cristo non è risorto, ma si deve ancora reincarnare, tutte vane la nostra fede. Se noi, dopo la morte, unica vita, non risorgiamo, è vana la nostra speranza. L'eresia della reincarnazione, che oggi viene anche propagandata nella televisione, in misteri, in questa trasmissione che mina la fede dei cristiani, anche che trova tanti aderenti e tanti ascoltatori. viene propagandata nei libri, nelle riviste. è una dottrina falsa, perché contraddice il credo cristiano. ma ritorniamo al Vangelo, proprio in questa parte in cui si bolla questa dottrina falsa della reincarnazione, in questa pagina in cui Gesù ribadisce la resurrezione. Quell'articolo di fede che noi professiamo credo nella resurrezione della carne, nella vita eterna e così sia. Ai tempi di Gesù c'erano due scuole, quella di Shammai e quella di Hillel. C'era la scuola frequentata dai farisei, c'era la scuola frequentata prevalentemente dai sadducei. non credeva né angeli né demoni né risurrezione della carne. La scuola dei farisei credeva alla resurrezione fermamente, credeva agli angeli né demoni. La scuola invece dei sadducei, che pure era frequentata da molti sacerdoti, non credeva agli angeli né demoni né risurrezione della carne. Una volta che Gesù sconfigge i farisei in altre dottrine, perché Gesù è imparziale, egli è la dottrina, egli è la verità, una volta che componde i farisei su altri punti di dottrina, falsa, in questa pagina del Vangelo componde i sadducei, i quali si avvicinano a Gesù e lo vogliono mettere in difficoltà, narrando un apologo banale. Ma è in quell'apologo banale che Gesù fonda quella asserzione così valida per noi, che mette a tacere i sadducei e tutti gli uomini i quali non credono in questa verità enunciata da Cristo. ricordate l'apologo, secondo la legge ebraica, se qualcuno muore il fratello che ha moglie, ma non ha figli da quella moglie, deve prendere la vedova per dare discendenza al proprio fratello, cioè deve sposare la cognata. ora c'erano sette fratelli, il primo ha presa moglie, ma morì senza figlie, subentrò il secondo, presa la stessa donna secondo la legge e morì. E così tutte e sette morirono l'uno dopo l'altro, una donna tremenda. alla fine morì anche lei. E dicono i sadducei nella cosiddetta risurrezione dei morti, se è vero che i morti risorgono, questa donna di chi sarà? del primo, del secondo, del terzo, del quarto, quinto, sesto, settimo? Volevano mettere Gesù in difficoltà. Gesù poteva rispondere ironicamente, come tante volte faceva ironia, non la vorrà nessuno, una che si è asciugata sette mariti, e chi se la prende? Ma Gesù deve dare una dottrina, deve ribadire una verità, e dice che voi figli di questo mondo prendete moglie e prendete mariti, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo, ed è la resurrezione dei morti, non prendere né moglie né marito. quelli che sono degni della resurrezione dei morti, quelli che risorgono per la vita eterna, e nemmeno possono morire, perché ormai sono resi immortali, sono uguali agli angeli, ed essendo figli della resurrezione, sono figli di Dio. Qui c'è una netta distinzione tra i figli di Dio e i figli del mondo, tra i figli della luce e i figli della tenebre. questa distinzione noi oggi non l'ammettiamo, tutti siamo uguali. Però dobbiamo ricordarci che è vero questo. Tutti siamo chiamati ad essere partecipi del Regno, ma in realtà non è così. finché viviamo in questo mondo, come dice il Vangelo, siamo come un mare dove ci sono i pesci buoni e i pesci cattivi, ma la separazione avverrà. Siamo un campo seminato dove c'è il frumento e la titania quando verranno gli angeli, separeranno la titania e la butteranno nel fuoco, mentre nel frumento sarà fatto il pane di Dio. C'è dunque una distinzione. Non si vede perché tutti siamo nel medesimo campo. Non si vede perché tutti siamo nel medesimo mare. ma già ci sono quelli che sono titania, quelli che sono frumento, quelli che sono pesci buoni, quelli che sono pesci cattivi, quelli che sono capri, quelli che sono pecore. il Vangelo è davantiere. Gesù separerà i buoni dai cattivi, i buoni alla vita eterna, i cattivi giù all'inferno. è bene che noi abbiamo davanti ai nostri occhi questa grande verità, ma crediamo alla resurrezione dei morti. non ci sono altre vite dove possiamo evolverci, purificarci, elevarci, diventare entità superiori, tutte basane, tutte fandonie, di maestri improvvisati, di sapienti che non hanno la luce del verbo. Perché la luce è una, ed è Cristo. la verità è una, ed è Cristo. tutti quelli che sono venuti prima di me, diceva Cristo, sono tutti impostori. lui è la verità. E noi prendiamo la verità dalla sua bocca, non da altre bocche. Gesù ripetisce che in realtà c'è la resurrezione dei morti. E dice Abramo, Isacco e Giacobbe sono vivi, erano morti, e sono vivi. Tant'è vero che dice la scrittura io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma è Dio dei vivi, perché tutti vivono per Lui. tutti vivono per Lui. Tutti vivono per Lui. Fratelli e sorelle, noi già viviamo per Lui. E' il grande enunciato della lettera ai Corinzi alla fine del primo capitolo. per Lui per Lui voi siete in Cristo dove viene proclamata la nuova esistenza. La nuova esistenza. io vorrei su questo punto richiamare la vostra attenzione. E chiudo. Abbiamo sì la vita, quella che ci hanno dato il padre e la madre, ma abbiamo una seconda vita, quella che è vera, quella che è già iniziata in noi e ci ha dato Dio, padre, in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, per Lui Cristo Gesù, voi siete. noi siamo, noi siamo, esistiamo in Cristo Gesù con una nuova esistenza, diversa da quella che abbiamo da nostro padre, da nostra madre. E' per questo che Gesù ci insegna la preghiera. padre, che sei nei cieli. C'è quasi una rinuncia, o meglio, una messa da parte della paternità, della generazione terrena. Il cristiano ha un nuovo padre che è quello che sta in alto. è Lui il padre che ha dato la vita, la vita nuova, la vita in Cristo, che ci ha generati in Lui mediante la parola di verità. Ha messo il seme divino dentro di noi lo Spirito di Cristo in cui noi gridiamo Abba Padre. E' una nuova generazione, la generazione della luce, la generazione eterna, la nuova creazione. E' Cristo il primo genito della nuova creazione. e coscientizzare e coscientizzare questa realtà e coscientizzare la nostra vera identità per cui non siamo gli abitanti della terra, come dice l'Apocalisse, ma siamo i cittadini del cielo, stirpe divina, regale sacerdozio. viviamoci insieme, ma il destino è diverso. Si vive insieme destino diverso quando verrà l'ora della separazione, l'ora della verità. Ma già questa vita il cristiano ce l'ha, può perderla, ma ce l'ha. Ed è su questa vita che dobbiamo fondare il nostro futuro. Fratelli e sorelle, è una verità basilare che, se vissuta bene, cambierà la nostra vita e che dimentichiamo facilmente chi siamo e perché siamo qua giù. Lo Spirito Santo ci deve ricordare chi siamo, ci deve ricordare la nostra identità in Cristo, ci deve ricordare che come uomini siamo morti, ma se siamo vivi lo siamo in un'altra esistenza, quella in Cristo, che sarà eterna, che è già incominciata col battesimo dentro di noi. E vale la pena coltivare questa seconda esistenza perché è quella che durerà in eterno. fratelli e sorelle, il Signore ci chiama alla fede, alla vera fede. Il Signore ci chiama alla speranza che non delude. Non possiamo attaccarci alla terra e vivere per i valori mondani che sono dati pure da Dio, ma che non possono attanagliare la nostra esistenza, totalizzare tutto il nostro desiderio. La carità, l'amore di Dio, devo unirci a Lui, riconosciuto come nostro Padre, deve legarci tra di noi riconoscendoci figli dell'unico Padre, fratelli in Cristo Signore per una nuova esistenza. E allora che la nostra vita viene levitata e allora che il Vangelo della verità e il Vangelo della carità risplenderanno in mezzo a noi. Sapete che cos'è questo Vangelo? È Gesù verità, è Gesù amore che deve risplendere nella nostra fede e nel nostro comportamento fraterno. Cioè considerandoci tutti figli dell'unico Padre, considerandoci tutti figli e fratelli tra di noi e lavorando tutti insieme non per questo mondo ma attraverso questo mondo per la vita eterna. Amen. Grazie a tutti. 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 Noi crediamo in te che sei il vivente, tu eri morto. E adesso sei il vivente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.